Bene, allora se posso parlare. Innanzitutto dico che il mio ruolo nella Deltatur è un ruolo un po' particolare. Come particolare? Lei chiede? Eh, mi lasci parlare, e gliel'ha detto ora... Signora, la verità di spiegarsi che cosa vuol dire con la particolare? Allora, semplicemente questo, io sono un avvocato, un consulente esterno, non sono quindi dipendente della Deltatur, ma ho la responsabilità di tutto l'ufficio legale della Deltatur. Dicevo, la Deltatur è un toro penetro in forte espansione. Guarda caso, specializzato proprio in viaggi in Africa. Mi dispiace dirlo, ma è così. Nell'ultimo anno... Spero che non so di spiacere per lei. No, nel senso, rivolto alla signora. Innanzitutto una premessa. L'Africa è l'Africa. Sì, l'Africa è l'Africa. L'Africa è l'Africa, perché non si può pensare che andare a fare un viaggio in Africa sia come andare in Italia o in Spagna o in un altro paese. Non sa un'unica lato come un saccappello. L'Africa è comunque, con i suoi problemi, con i suoi disagi, cioè... Quello che appunto ha detto la signora Rossi mi risulta non del tutto esatto. Per esempio anche la questione del fuoristrada, il motore del fuoristrada, che si sarebbe rotto e avrebbero perso un sacco di tempo, eccetera. A me risulta invece l'intervento di riparazione fosse stato piuttosto tempestivo. Poi l'inversione del viaggio nel deserto rispetto alla vacanza. Ecco, sì, questo posso anche capire che sia stata una situazione un po' spiacevole. No, guardi, ora una situazione solo spiacevole. Cioè, voglio dire, insomma, siamo rientrati in ufficio stanchissimi, per cui insomma mi sembra abbastanza importante. Sì, però queste inversioni di programma sono previste contrattualmente. Se lei ha modo di esaminare, vedrà che nel contratto che ha sottoscritto c'era la possibilità da parte del tour operator di cambiare l'organizzazione del viaggio. Questo è normalissimo. Poi passiamo alle altre lamentele. C'è la questione dell'albergo. Anche il cambiamento dell'albergo rientra nella stessa tipologia. È previsto contrattualmente la possibilità... Cioè, perché può cambiare tutto? No, signora. Cioè, ci hanno fatto vedere un catalogo con un albergo che può cambiare. Abbiamo scelto un tipo di viaggio che può cambiare. Allora, voglio dire, andiamo così al buio, mettiamoci nelle loro mani. Mi permette di capire bene? No, no, Wagner, credo che sia ben chiaro, anche perché ho bisogno anch'io di comprendere bene quella che è la posizione di ciascuno di voi. Per questo che chiedo all'altra parte e non interrompere per quanto possibile. Non vuole essere un... Chi sta in silenzio non significa necessariamente che accetti subitamente tutto quello che gli viene detto. Mi permette un attimo di...